E' da qualche giorno che voi siete in festa, no? Perché ieri Daniela ha festeggiato il suo ventesimo compleanno. Oggi José e Daniela si uniscono in matrimonio. Oggi è il 14 luglio, è una data bella, forte. È una data, se voi mettete 14 luglio su Google, vi renderete conto che ci sono state tante, nella storia, tanti fatti. Io mi permetto di ricordarne uno, che è la rivoluzione francese. Oggi, come oggi nel 1789, ci fu la presa della Bastiglia, che stabilì un prima e un dopo per tutta l'Europa e poi per il mondo. è una data, se vuole un'altra, se vuole un'altra, se vuole un'altra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.